Presentazione della nuova Green Refinery di Gela, oggi nei locali della raffineria Eni, erano presenti vertici del settore downstream Eni, Enimed e raffineria. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare i dettagli del progetto di riconversione della raffineria a ciclo tradizionale in Green Refinery e per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori. A soli due mesi dal rilascio delle autorizzazioni della prima fase, le attività procedono speditamente e in linea con il programma previsto nel protocollo d'intesa firmato il 6 novembre del 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico. Durante l'incontro sono stati forniti gli aggiornamenti delle altre attività previste nel protocollo che, analogamente alla Green Refinery, sono in linea con il programma. All'incontro di oggi hanno preso parte i vertici di Eni, Salvatore Sardo e Luigi Ciarrocchi, quest'ultimo responsabile Eni del programma Gela. E' stata affidata alla ditta americana Foster Wheeler la costruzione dell'impianto di Green Refinery che sarà realizzato nell'arco di 12-18 mesi. I vertici Eni, inoltre, hanno assicurato che le maestranze che lavoreranno alla realizzazione dell'impianto saranno esclusivamente locali. Nella strategia generale del colosso del cane a se zampe, è stato ripetito oggi, il lassito industriale di Gela non solo non sarà smantellato, ma sarà punto di riferimento centrale su tutto il bacino del Mediterraneo. Dottor Sardo, possiamo dire che il 6 novembre 2014 la Green Refinery a teoria e l'8 giugno 2016 invece pratica? Ecco, bravissimo, mi piace moltissimo questa cosa che lei ha detto, è proprio così, cioè noi effettivamente oggi siamo qui per testimoniare che Eni realizza quello che promette. Noi oggi voi avete avuto occasione di vedere già il sito pronto per ospitare i nuovi impianti. In questi giorni abbiamo assegnato l'appalto per quello che è il cuore di questa raffineria, quello che sarà il cuore di questa raffineria che è appunto lo Sting Reformer, sarà realizzato nel giro di 16-18 mesi e quindi quello che era una speranza, magari vista all'inizio con una certa diffidenza, possiamo dire che sarà una realtà. E oggi a due mesi di autorizzazione lavorano oggi 130 risorse, quindi sono fatti, non sono parole. Non è per cercare responsabilità ma ci sta comunque dicendo che se per 18 mesi non si è quasi mossa foglia è perché da Roma e da Palermo non partivano le autorizzazioni. No, diciamo che come ho accennato in precedenza, la prima fase è quella di ingegnerizzazione, di studio, di presentazione del progetto. Devo riconoscere che il rilascio della non associabilità, che è uno dei punti più importanti, è avvenuto nell'ambito delle pertinenze del Ministero dell'Ambiente in 4-5 mesi. Quindi diciamo che non possiamo dire che la pubblica amministrazione non abbia fatto il suo dovere in questo caso. Grazie.